Controlli sul territorio, lotta ai botti legali, soprattutto prevenzione per i furti che nel periodo delle feste si moltiplicano. Questi alcuni dei punti chiave che il questore di Chieti Aurelio Montaruli ha voluto sottolineare con la stappa. Mercoledì scorso in prefettura si è tenuto una riunione specifica del Comitato Provinciale d'Ordine e Sicurezza Pubblica a seguito della quale il signor Prefetto ha dato delle indicazioni di massima su come dovranno essere svolti questi servizi straordinari delegando al questore quale Autorità Provinciale e Tecnica d'Ordine e Sicurezza Pubblica l'effettuazione di un tavolo tecnico. La questura ha emanato un'ordinanza che entra nel dettaglio dei servizi straordinari che andranno effettuati a partire da questa settimana fino a dopo l'Epifania. Aumenteremo i servizi di vigilanza lungo le nostre strade, nelle nostre piazze e anche nelle arterie stradali extraurbane e autostradali. Grazie, questo ha l'impiego di pattuglie della specialità della Polizia Stradale in particolare. Come vivere un Natale o un Capodanno in sicurezza, signor Questore? Evitando l'utilizzo di artifici pirotecnici illeciti. Questo è il primo consiglio che mi permetto di suggerire. Il secondo consiglio, per essere un po' più tranquilli, utilizzare dei sistemi di sicurezza passivi nelle nostre abitazioni in maniera tale da scoraggiare malintenzionati dal porre in essere furti. Insomma, i ladri non vanno in vacanza? Assolutamente, anzi, approfittano di questi periodi per colpire ulteriori obiettivi, aumentare il loro raggio d'azione.